Probabilmente è una partita chiave perché può essere un po' una svolta. Sicuramente abbiamo bisogno di un'impresa per continuare il nostro sogno verso i play-off e la vittoria di Casale è uno snodo fondamentale. Perdere lì vorrebbe dire poi sperare, rendere ancora più difficile il nostro percorso. Sicuramente è una partita per me che vale doppio, ormai mancano solo più sei partite quindi per provare a entrare nei play-off in Estremis il nostro percorso passa anche da Casale. Incontriamo una squadra tosta, difficile, in un campo difficile. Loro sono veramente in forma, li ho visti giocare anche in un amichevole contro Varese tre settimane fa. fanno della difesa, dell'aggressività alla loro forza. Sicuramente non troveremo morbido. Diciamo che è una partita forse veramente, direi, è brutto dire l'ultima spiaggia però è chiaro che non possiamo più perdere terreno se vogliamo cullare questo sogno. Sappiamo benissimo che non abbiamo disputato un grandissimo campionato, sappiamo benissimo anche però che ci sono sei partite da giocare fino in fondo e da portare a casa per provare a centrare quell'obiettivo. Loro sono una squadra che oltre a giocare una bella palacanestro, giocano duro come hai detto te, ma giocano anche una palacanestro molto tattica. Si adeguano molto alle squadre avversarie e questo fa di loro un punto di forza. Noi controattacchiamo cercando di provare a tenere noi il ritmo in mano della partita, come l'avevamo fatto molto bene a Torino, che per un pizzico ci è andata bene. Però credo che Casale sia una squadra molto più preparata dal punto di vista proprio tattico. Grazie a tutti.